la nostra puntata nuova di zagara e limone la nostra rubrica di cucina qui irene catarella maria concetta giù l'aiuto chef siamo con marco vivona che oggi ci cucinerà un piatto a base di persa non scopriamo nulla ancora salutiamo prima di tutto i nostri spettatori è vero soprattutto a lega dei fraia che è una nostra fan allora seguiteci perché il nostro chef ci studia e intanto vi dico che siamo nel bmb al centro a camarada e adesso cominciamo a scoprire gli ingredienti di questa ricetta andiamo andiamo marco velaci il nome della ricetta di questa sera allora stasera prepareremo un tortino di ricotta caldo con gambero bianco e pomodoro confit è una ricetta che mi sono inventato durante le mie giornate post lavoro questo ci rende ancora più curiosi ora marco e la nostra intussetto ci diranno quali sono gli ingredienti di questa ricetta allora intanto andiamo a vedere il protagonista di questo piatto ovvero il gambero bianco e poi oltre al gambero bianco poi abbiamo preso del pomodoro pachino l'aglio l'aglio vi hai fatto vedere poco fa una mollica di colore bianca questa è una mollica bianca che utilizzeremo per fare l'impasto del tortino poi poi del prezzemolo pepe nero sale il burro che servirà per rimburrare di stampini per fare il tortino e poi non poteva mancare a cammarata la ricotta quindi abbiamo preso la ricotta che è un pezzo forte della terra del monte sicane prodotto a chilometro zero ma ti sei dimenticato tre tue creazioni da decorazione questo è un olio al prezzemolo questo verde una passata di zucca e poi diciamo del pomodoro che servirà per guarnire un pochettino in verde il piano abbiamo fatto per scontato uno dei re della cucina al chilometro zero cioè il nostro olio d'oliva è chiaro che lui non può mancare mai è vero o no? Marco tu confermi giusto? assolutamente sì allora cosa faremo? iniziamo allora ora andremo a preparare il tortino quindi l'impasto con la ricotta la mollica bianca le quantità? allora circa 150 grammi di mollica bianca per mezzo chilo di ricotta naturalmente un po' di prezzemolo tanto quanto basta pepe tanto quanto basta un po' di olio d'oliva e poi un pizzico di sale intanto ne approfitto per dire la proprietà mentre il nostro chef si mette al lavoro approfitto per dire la proprietà della ricotta che ha basso proprio quantitativo di grassi ha alta digeribilità e alto contenuto di calcio ricordiamo che la ricotta dalle nostre nonne veniva detta fresca frisca come si dice in siciliano perché appunto era facilmente digeribile ricordiamo un'altra cosa che forse non tutti sanno la ricotta serve a fare degli impacchi si diluisce con un po' d'acqua e poi si fanno degli impacchi nelle gambe ed è ottima contro la fleghite per i bronchi sul torace è come un alimento che può aiutare a digerire sempre a impacco quindi a uso esterno sullo stomaco quindi non ci vediamo mai di stupire delle grandi proprietà dei prodotti a chilometro zero che noi abbiamo qui nei monti sicani un po' di sale un pezzetto di pepe che bei colori eh e l'olio va bene così e un filo d'olio la stiamo prendendo adesso mmmm si vede che sono prodotti locali a Pirena eh si nei monti sicani non abbiamo dubbi abbiamo una grande provvidenza perfetto il nostro chef ha ordinato di accendere il forno ventilato a 180 gradi adesso quali sono gli altri ordini? ora il nostro impasto è pronto dovremmo andare a imburrare lo stampino e insieme alla mordica secca questa volta per evitare che si possa attaccare il tortino dentro il forno andremo a preparare ora gli stampi quindi io procedo tu mi porti su non mi lasci cadere tu mi porti su non mi lasci cadere quando ti ho incontrato è scattato il gioco della seduzione tutte e due a stendere la merce più invitante sul bancone sguardo sfuggevo gli posti andiamo allora a riempire i nostri stampini una cosa importante non bisogna farli proprio come perché loro nel forno confieranno e quindi quindi lasciamo un po' di spazio esatto guardate già viene la prima poca solo a vederle fare queste cose eh allora Marco sì per il quantitativo che abbiamo utilizzato sono venute fuori cinque tortine cinque tortine sì per giù per 500 grammi di ricotta vengono fuori circa cinque tortine e vediamo come il nostro chef ha proprio livellato e sistemato perché anche l'occhio vuole la sua parte in cucina è vero o no? adesso andremo a preparare i gamberi per fare a voi cioè per condire il nostro tortino i gamberi bianchi che io consiglio sempre sono per giù di mezza misura non troppo piccoli e troppo grandi il pomodoro opachino l'aglio un po' di vino bianco che io consiglio sempre di utilizzare un vino nostrano che sia un catarratto o un grillo eh ma ci siamo dimenticati il peperoncino ci siamo dimenticati il peperoncino ci serve per dare un tocco di diciamo di frizzatezza al nostro piatto diciamo dobbiamo ricordare che i gamberi sono un alimento astrodisiato no? assolutamente e quindi andremo poi a finire il nostro piatto stiamo procedendo a fare il nostro fumetto con le teste dei nostri gamberi e del vino bianco che abbiamo già precedentemente descritto esatto andremo a pulire un po' di gambero che ci servirà per preparare diciamo l'intingolo che poi sarà messo sopra il tortino e qualche gambero lo lasceremo intero per poi finire il nostro piatto come decorazione certo bisogna sempre far vedere la materia prima esatto tu mi porti su o mi lasci cadere tu mi porti su o mi lasci cadere quando ti ho incontrato hai scattato il gioco della seduta ora andiamo a preparare tutto ciò che serve per guarnire il nostro tortino quindi un po' di olio d'oliva dei pomodori che quelli che cucinati poi con l'olio diventeranno confit un po' di aglio che io di solito lo metto in camicia perché non tutti ingeriscono l'aglio allora per evitare che venga tagliato a pezzettini lo sfacciamo e poi lo toglieremo a fine cottura il peperoncino non lo dobbiamo dimenticare un po' di prezzemolo il vino bianco per sfumare e il peperoncino e c'è proprio diciamo un inter prima l'aglio con il prezzemolo facciamo cucinare un po' l'aglio con camicia 30 secondi e poi mettere il pomodori tu mi porti su non mi lasci cadere tu mi porti su non mi lasci cadere quando ti ho incontrato hai scattato il gioco della seduzione portiamo il fumetto, il brudino bianco e le teste dei gamberi osserviamo che il nostro chef mentre sta facendo il fumetto schiaccia un po' la testa vero dei nostri gamberi perché? sì perché per evitare sapore al condimento e il sapore sapore nella testa dei gamberi naturalmente poi il brudino verrà colato con un colino per evitare che vadano dei pezzettini di testa l'odore è buonissimo allora il gambero quindi sia quelli sgusciati che quelli interi e adesso la nostra aiuto chef stanno per colare per fare in modo che non ci sia nessun residuo delle teste è questo che dà il gusto, è vero chef? sì, l'intensità del gambero è proprio che viene fuori dalla testa allora a fiamma moderata cuciniamo il nostro gambero aggiungeremo un po' di sale e un po' di peperoncino la cosa importante mi raccomando il gambero appena diventa leggermente bianco subito siamo già a fine cottura sennò poi praticamente si sfarina e diventa poi brutto quindi il gambero ha una cottura proprio velocissima velocissima, molto molto veloce adesso procediamo finalmente alla composizione del piatto subito ci forza lo completiamo cosa stai facendo per prima cosa? allora sto mettendo però i gamberi che poi saranno sgusciati direttamente da chi mangerà questo piatto ci vuole pure faremo una girandola anche se ho sforziato un po' poi oggi dovremo anche poter pulire è un qualcosa che si può sempre insegnare ai nostri spettatori vero Maria Concezione? sì, esattamente in cucina tutto è rimediabile sì benissimo ecco questo è l'effetto particolare guardate la perfezione poi metteremo i pomodori con un po' di di prodetto del loro prodetto come si so dire di cucina cioè veramente se c'è da farsi la scarpetta e questo sottinteso anche con qualche gambero che avevamo precedentemente sgusciato e poi come tocco finale che cosa ci riusci di fare un po' di ore al prezzemolo e poi il nostro grande protagonista della cucina poi un filo d'olio completamente guardate la precisione del vostro sforzo e poi vi consiglio di mangiare questo piatto con un buon bianco grillo di fronte a questa meraviglia non mi resta che ricordarvi che chi vuole può invitarci a casa sua e siamo disponibili a venire da lui o da lei per cucinare un piatto particolare Maria Congetta non ci resta che dire che cosa buon appetito da Folk Food Blog non mi resta che a ghiè guardate il gioco della seduzione Tutte e due a stendere la merce